La scaricata amici di Mantua delle vostre macchine fotografiche è uno spettacolo inimitabile come soltanto Fend riesce a fare Direi di non provare questo a caso Eh no, meglio di no, non fatelo mai Tra l'altro, Michele, da qua non mi sembra neanche di sentire pulso di pulsato Perché con il Fend Vario non c'è neanche bisogno della frizione, è vero? Anzi, la frizione non c'è proprio Guarda un po' che roba Niente frizione, niente usura Tutto avviene attraverso le volantini oleodinamiche La trasmissione è varia tra tutto il moto in base allo sport Quindi basta giocare con l'acceleratore, vero Michele? Assolutamente sì E io direi che qui ci sta un applauso Un applauso